Ciao ragazzi, che ci dici di questi due giorni? Questi due giorni sono molto impegnativi, ma il mio spirito di sacrificio è arrivato alle stelle, quindi mi trovo molto bene, una staff veramente elaborativa e integrativa. Allora, com'è questa sagra? È veramente bella, tanto lavoro, tanta gente, ci piace perché ci stiamo divertendo, siamo tutti un bel gruppo unito e simpatico. Come sta andando il lavoro? Lavoro bene, bene, bene. Guarda, guarda, guarda. Ragazzi, volete dire qualcosa? Buongiorno, buongiorno è una cosa. Molto comunità, non c'è bene, non c'è bene, non c'è bene... Non c'è bene... Quando stai anch'io gli torpelli, sopra i tavoli, ti domandi, certo chi sei tu? Se il mare si vede a scocare E ti sorprenderai in un grande bambino Stai in seconda storia Di mattina Non mi cercare Non mi riconoscerai E non mi riconoscerai E non mi riconoscerai E non mi riconoscerai Non mi riconoscerai E non mi riconoscerai Grazie! E non ti avrei piaccio qui! È il momento soft, è l'anni 70 Qualcosa di noi si è innamorato magari con queste lezioni. La piacchia è dura, manca di andare via, via, via.